giovedì 21 giugno ore 10 del mattino in piazza castello giornata di protesta generale partecipiamo tutti al presidio pantelleria è casa nostra panteschi adesso basta a uguali doveri devono corrispondere uguali diritti giovedì 21 giugno ore 10 del mattino in piazza castello giornata di protesta generale partecipiamo tutti al presidio pantelleria è casa nostra panteschi adesso basta a uguali doveri devono corrispondere uguali diritti io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono giovedì 21 giugno ore 10 del mattino in piazza castello giornata di protesta generale partecipiamo tutti al presidio pantelleria è casa nostra panteschi adesso basta a uguali doveri devono corrispondere uguali diritti io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono